ciao ciao a tutte ciao suocera allora è da un po di tempo che voglio fare questo video perché diciamo allora sto preparando dei tutorial ma sono abbastanza lunghi e quindi molto laboriosi e non avevo diciamo tempo per fare dei lavoretti un po più veloci e fare anche il tutorial perché c'è sempre da fare tra una cosa l'altra la casa l'orto e gli zucchini e la cucina e i cani gatti le galline e i figli il marito diciamo che mi rimane poi poco tempo e sto preparando sia dei progettini che devo comunque regalare che non farò il tutorial perché sto guardando io dei tutorial a mia volta per realizzarli e sia dei progetti che poi andranno man mano nell'autunno e poi sotto il periodo delle feste natalizie insomma vi parlo già di natale ma siamo a luglio però sapete che comunque chi vuole preparare i lavoretti per natale diciamo che a ottobre massimo novembre inizia a guardare e qui per questo sto diciamo lavorando c'è anche birillo come avete potuto sentire e quindi dopo tutto questo mio discorso introduttivo che non c'entra niente con l'uncinetto e appunto volevo parlarvi un po dell'uncinetto in generale perché ogni tanto leggo delle domande sull'uncinetto domande teoriche per chi appunto sta imparando e vuole saperne di più allora questa è la mia diciamo collezione di uncinetti che ho diciamo acquistato negli anni gli uncinetti che uso maggiormente allora questi sono quelli che non uso mai perché questi in plastica non mi piacciono però li ho trovati su una rivista e quindi me li tengo perché comunque l'uncinetto è la mia passione e quindi avere tanti uncinetti mi piace sempre questi sono in metallo e anche questi li uso veramente poco perché boh non lo so non mi non mi ispirano molto questi in acciaio li uso tanto per il cotone sottile a volte e anche per il chiacchierino a volte mi servono da fare gli aggani quelli molto fini 0 60 0 90 e al massimo un numero uno questi li ho perché boh forse me li hanno regalati chi non sapeva cosa farsene e li tengo lì questi li ho comprati ma sinceramente per me sono veramente troppo grossi perché io comunque prediligo diciamo la lavorazione ad uncinetto con filato da lavorare con 3 4 5 c'è i numeri 3 4 5 li prediligo e quindi i più che uso sono questi e sono questi di questa linea che scorrono molto bene e mi trovo benissimo ce l'ho dal numero 2 fino al numero 4 e mezzo devo sempre comprare il 5 ma per il momento non lo sto usando quindi a volte come 5 invece ne uso un altro di questa linea qua e virillo adesso lo potrei mettere nel forno va bene e poi abbiamo gli uncinetti per il tunisino che come vedete ne ho soltanto due perché naturalmente l'uncino è una bella tecnica ma diciamo che non non è che mi appassiona molto e quindi non ho nemmeno comperato molti uncinetti ne ho comprato uno numero 5 che ha solo una punta e quindi anche qua c'è una differenza tra questo a due punte vedete e questo a una punta questo qua è l'uncinetto tunesino a una punta si usa per le lavorazioni diciamo dritte mentre questo qua a due punte si può fare la lavorazione in tondo cioè circolare e voi direte ma come si fa a fare una lavorazione circolare con una cosa dritta e bene si fa perché diciamo che la lavorazione con l'uncinetto tunesino assomiglia un po' leggermente diciamo alla lavorazione ai ferri e quindi anche con i ferri comunque si può fare la lavorazione tubolare non circolare scusate tubolare poi mi sembra di non avere detto nessuna cavolata se però avete in merito qualcosa da dire potete scriverlo nei commenti sotto quindi passiamo a diciamo le domande che più frequentemente io ho letto e ho anche risposto a volte perché comunque chi si avvicina all'uncinetto insomma io quando mi sono avvicinata all'uncinetto l'ho trovata una tecnica molto difficile però non c'erano c'è c'erano i tutorial ma io non ne sapevo l'esistenza e quindi mi sono dovuta arrangiare un po' con le riviste un po' con diciamo mia suocera e mia mamma e cioè mia suocera e mia mamma diciamo che mi dicevano un po' teoricamente come si poteva fare poi non ci siamo mai soffermate molto nei discorsi perché loro non hanno la pazienza e quindi ho preferito arrangiarmi da sola e però diciamo che chi si avvicina all'uncinetto secondo me innanzitutto dovrebbe provare con uncinetti molto grossi allora gli uncinetti grossi che io non uso perché solitamente si usano per le lane grosse o per la fettuccia che io la fettuccia proprio non riesco a sopportarla però vi consiglio l'uncinetto magari 5 5 e mezzo per poter partire a diciamo iniziare a fare le catenelle tra l'altro se volete anche sul mio canale c'è un video proprio dove insegno a fare le catenelle e vi racconto tutta la mia vicenda per imparare l'uncinetto e magari vi lascio il link e niente e quindi secondo me è meglio usare un uncinetto grosso all'inizio perché proprio per capire dove si deve puntare l'uncinetto perché i primi tempi si hanno delle incertezze l'uncinetto si punta dove c'è la catenella o fra un punto e l'altro perché a me questo dubbio mi è venuto cioè nel senso allora io intendo si punta fra la catenella cioè adesso vi faccio vedere sto facendo un lavoro ma lo posso usare benissimo per farvi vedere un attimo la videocamera e avvicino allora intendo allora qua parte che sto facendo dei punti alti dei ventaglietti ma a parte ciò no quando uno inizia l'uncinetto il dubbio è sempre ma l'uncinetto si punta qua quindi in mezzo fra le due maglie alte in questo spazio oppure si punta qua nella catenella dove poi vi trovate con due asolette sull'uncinetto il posto giusto naturalmente è questo anche se in alcuni lavori si lavora proprio fra i punti ma però questo è sempre comunque da vedere nella spiegazione o nello schema che state seguendo io però all'inizio avevo questo dubbio e quindi mi trovavo un po' diciamo spaesata e chiedevo non sapevo chi chiedere e quindi mi sono dovuta un po' arrangiare finché ho scoperto appunto che sul web c'era di tutto di più e mi ero iscritta a un gruppo su facebook dove non ci capivo un cavolo di quello che parlavano perché era ancora ostrogoto l'uncinetto perché stavo solo imparando però guardavo e c'erano dei lavori stupendi magnifici e io dicevo oh mamma mia ma cioè non riuscirò mai a farlo poi insomma pian piano ho iniziato a scoprire le piastrelle i vari punti c'era una ragazza che spiega molto bene e quindi riuscivo a seguire e man mano insomma sono andata avanti quindi mi raccomando per le principianti adesso ci sono i tutorial e quindi non avete più problemi secondo me però il dubbio che mi era venuto era quello lì un'altra domanda che sento sovente è perché partiamo pure dall'inizio perché cioè voglio dire chi si avvicina all'uncinetto sente parlare di punti no punti e il ventaglietto e il punto alto e il punto in rilievo e di qua e di là allora i punti base dell'uncinetto sono allora c'è la catenella da cui partono tutti i lavori oppure vabbè il cerchio magico però quello è specificato nei vari schemi poi c'è il punto bassissimo che serve solo come diciamo unione nei vari giri oppure per spostarsi diciamo di qualche centimetro e così via poi abbiamo il punto basso il punto mezzo alto il punto alto il punto altissimo poi vabbè c'è il punto triplo volendo anche il quadruplo però sono tutti comunque punti che diciamo comprendono poi una serie di punti che normalmente vengono chiamati punti fantasia perché comunque non tutti i punti hanno un nome allora se vedete scritto in qualche spiegazione punto fantasia e dite oddio cos'è sto punto fantasia non è nient'altro che l'insieme di vari punti alti o vari punti bassi o mezzi alti messi in maniera da creare un certo tipo di disegno quindi non vi dovete allarmare poi un'altra domanda che mi è capitata e comunque sento ancora spesso è come faccio a capire quale uncinetto e quale filato devo usare insieme a quell'uncinetto allora naturalmente chi fa le spiegazioni anche sulle riviste c'è sempre scritto filato tale e numero di uncinetto però non tutte comunque siamo uguali nella lavorazione perché io ad esempio in ogni spiegazione che leggo oppure guardo dei tutorial io devo sempre aggiungere mezza misura o addirittura una dipende dal lavoro che voglio fare perché io lavoro stretto e quindi mi trovo sempre magari con il lavoro un po' più compatto però io lo so e quindi aggiungo sempre mezza misura di uncinetto in più con magari un filato che dicono o che comunque c'è scritto nella nella spiegazione però qua deriva anche l'importanza di farsi sempre sempre un campioncino con l'uncinetto che si vuole usare e il filato che si vuole usare perché così uno si rende conto del lavoro come viene perché se io faccio ad esempio una piastrella qualsiasi e la lavoro con un uncinetto numero 3 e un filato e poi la lavoro con lo stesso filato e l'uncinetto numero 4 vedete che c'è molta differenza sia della lavorazione e sia proprio come morbidezza del lavoro quindi quando volete un lavoro morbido spesso comunque io ho fatto anche delle copertine da carrozzina e comunque vanno morbide non vanno cioè compatte mentre invece ci sono dei lavori che vanno compatti e allora si deve ridurre il numero dell'uncinetto sempre comunque in base alla vostra mano e sempre comunque mi raccomando fatevi un campioncino perché così almeno non arrivate a metà lavoro come è già successo a me e dovete disfare tutto perché non vi piace perché comunque noi creative se non ci piace una cosa cioè almeno io sono fatta così se a me non piace una cosa, una lavorazione che sto facendo non riesco ad andare avanti, è più forte di me, la devo disfare e quindi poi magari la rifaccio allo stesso modo però cambiando il numero di uncinetto e quindi questa è la risposta che volevo dare a chi mi ha chiesto a chi mi ha fatto questa domanda collegandomi al discorso dei campioncini per fare le prove per comunque cominciare un lavoro volevo anche dirvi come poter fare non sempre si può fare per sapere prima quanto filato vi occorre per una determinata creazione allora facciamo un esempio se la creazione è facilitata perché comunque avete proprio dei punti di riferimento ad esempio piastrelle oppure strisce diciamo strisce di punti che si ripetono e così via vi potete facilmente aiutare facendo la prova e completando magari una striscia o una piastrella pesando la quantità di filato che avete usato quindi fate la vostra prova e poi usate la bilancia elettronica per pesare i grammi di filato che avete usato e in questo caso potete calcolare quanti grammi di filato vi serviranno per tutta la creazione e questo è un metodo che è molto valido se no di solito sulle spiegazioni oppure anche nei tutorial quindi al comunque chi spiega è molto preciso però se non vi ricordate ad esempio quanto filato avete usato per fare una creazione prendo in considerazione sempre il mio vestitino che sto facendo e siccome mi hanno già chiesto quanto filato hai usato quanto filato non hai usato allora io siccome non mi ricordo più sinceramente allora l'ho girato al contrario e sono andata a vedere quante volte ho giuntato quindi io vedo una, due e tre giunte quindi presuppongo che siccome ho usato gomitoli da 50 grammi di cotone numero 5 presuppongo che allora un gomitolo finiva qua e ho iniziato il secondo l'altro il secondo è finito qua ho iniziato il terzo e qua è finito il terzo ed ho iniziato il quarto del quarto me ne è avanzato veramente pochissimo e siccome non riuscivo più a fare ancora due giri con lo stesso filato ho cambiato il colore però ecco vedete che si può comunque risalire alla quantità di filato che avete usato e si può anche calcolare approssimativamente prima di iniziare qualsiasi creazione la lavorazione all'uncinetto comunque voi vedrete sempre che ha sovente un diritto e un rovescio e lo potete proprio cioè si distingue non è che non si distingue perché in alcuni lavori invece non c'è un diritto e un rovescio e questo è diciamo definito dal tipo di lavorazione che uno fa e quindi allora adesso vi faccio vedere di nuovo questo che poi alla fine è un vestitino che sto facendo per la mia nipotina che compie un anno e appunto in questo lavoro ad esempio abbiamo sicuramente un diritto che è questo qua allontano se riesco a farvelo vedere ok il diritto che è questo qua del lavoro e il rovescio che vedete che c'è molta differenza diritto rovescio nella seconda parte nella prima parte dove abbiamo proprio il collo e le bretelle la lavorazione risulta che si può usare indistintamente sia dal diritto che dal rovescio perché questo è il diritto e questo è il rovescio e sono praticamente uguali perché è fatto con righe di andata e ritorno mentre da qua dove finiscono i bottoni il lavoro è stato fatto a cerchio e quindi sempre preso dal dritto quando fate questo tipo di lavorazione a cerchio dovete fare attenzione che a volte quando chiudiamo il giro e magari posiamo il lavoro e poi lo riprendiamo non andiamo a lavorare poi dalla parte inversa perché poi la lavorazione viene diversa se dovessi fare questa lavorazione qua che mi sbaglio e invece di prenderla così e lavorare da destra verso sinistra mi sbaglio e la prendo per così e quindi posso lavorare benissimo sempre da destra verso sinistra però poi si vedrà che una parte è da rovescio e un'altra parte dal dritto e quindi c'è ci rendiamo conto dell'errore mentre invece i lavori di solito quelli fatti in righe di andate e ritorno quelli lì si possono guardare sia dal diritto che dal rovescio e sono sempre uguali quindi insomma questa è una particolarità che secondo me sull'uncinetto è una particolarità che gli dà tanto prestigio ma non è la parola esatta prestigio che gli dà tanto tante possibilità ti dà la possibilità di creare comunque e di poter decidere qualsiasi cosa mentre si fa un lavoro anche in corso d'opera se uno vuole cambiare fare dei cambiamenti lo può sempre fare però questo è un discorso che sicuramente capiranno le veterane dell'uncinetto perché chi si sta avvicinando cioè è un discorso non difficile da capire però comunque finché l'uncinetto non si pratica certi meccanismi non si riescono a comprendere e quindi sto cercando di farvi tipo una teoria sull'uncinetto perché vedo proprio che ci sono tante principianti che fanno queste domande e sono contenta se comunque riesco ad aiutarle a risolvere i dubbi altra domanda che sento molto spesso è come si fa ad ingrandire o rimpicciolire uno stesso lavoro all'uncinetto allora innanzitutto per rimpicciolire o ingrandire si la prima cosa che si fa è rimpicciolire o ingrandire il numero dell'uncinetto e questo ti dà diciamo un paio 2-3 centimetri di differenza di lavorazione quindi se non dovete proprio ingrandire o rimpicciolire proprio di che ne so due taglie tre taglie quattro taglie potete benissimo basarvi solo sulla misura dell'uncinetto o addirittura più il filato è grosso e più il lavoro diventa grosso con lo stesso schema e più il filato è sottile e lo stesso lavoro si rimpicciolisce in base al filato più piccolo quindi lo stesso lavoro fatto con l'uncinetto numero 2 è diverso che fatto con l'uncinetto numero 4 o 5 o 6 ed è e non abbiamo toccato numero di punti e numero cioè il numero di punti non è stato variato invece se si vuole per forza diciamo ingrandire o rimpicciolire e ci piace il filato perché abbiamo trovato il colore giusto perché uno si trova bene con un numero di uncinetto perché uno si trova bene con un tipo di filato bisogna sempre guardare nella spiegazione che danno comunque i criteri di diminuzione in taglie oppure numero di punti e quindi numero di catenelle iniziali e quindi si può benissimo ridurre o ingrandire un qualsiasi lavoro bisogna solo fare dei calcoli diciamo matematici perché anche qua la matematica serve soprattutto quando si fanno gli aumenti e le diminuzioni e quindi questa è un'altra domanda che io sento naturalmente dalle principianti e anche io all'inizio comunque facevo fatica a proprio a capire questo meccanismo questo meccanismo di riduzione o ingrandimento di un qualsiasi lavoro perché non riuscivo proprio a come dire a sostituire lo stesso progetto levando o togliendo delle delle maglie o delle catenelle insomma mi veniva molto molto difficile quindi non è così semplice come lo sto facendo sembrare io perché comunque anche io all'inizio non sapevo mai dove andare a parare però poi man mano uno capito il meccanismo si trova poi diciamo con facilità anche a fare delle modifiche allora quindi questo è detto un'altra cosa che sento sovente è ma le mancine possono lavorare all'uncinetto allora le mancine possono lavorare all'uncinetto cioè io ne conosco molte di mancine che lavorano all'uncinetto le guardo sempre con una punta non di invidia ma le guardo strane perché loro fanno tutto al contrario mentre noi lavoriamo da destra verso sinistra loro lavorano da sinistra verso destra e quindi rimane un po' difficile da interpretare però loro ad esempio ho parlato con una signora che lei è mancina si trova benissimo non ha difficoltà cioè proprio tranquilla ha imparato benissimo e quindi le mancine possono dilettarsi in quest'arte allora un'altra cosa che volevo dire è che chi lavora all'uncinetto comunque deve anche usare un po' di fantasia nel senso che almeno a me capita sovente di comunque avere nella testa un un lavoro una creazione qualcosa e di non avere la spiegazione naturalmente perché comunque la mia fantasia lei va no e quindi lavorare senza schema o spiegazione ti porta comunque a imparare e affrontare comunque delle diciamo situazioni durante la lavorazione dell'uncinetto che magari uno non trova quando c'è la spiegazione o lo schema e quindi quando fai una cosa senza spiegazione o lo schema comunque ci devi mettere del tuo e quindi ti devi anche inventare magari la correzione di un difetto oppure comunque quando ti devi inventare qualcosa dall'inizio alla fine in corso d'opera fai delle modifiche e secondo me è molto utile per imparare proprio tante cose da sole e quindi insomma io consiglio a tutte di a volte provare proprio a progettare qualche qualche cosa che avete in testa è proprio mettervela giù con il filo e l'uncinetto oppure prima scrivervi due righe di spiegazione e poi provare a farlo comunque perché prima di tutto vi apre la mente e seconda cosa comunque c'è poi quando alla fine la soddisfazione di avere creato una cosa un progetto da sole senza aver avuto niente di aiuto una spiegazione uno schema un tutorial qualsiasi cosa e secondo me appunto serve molto come esercizio per diciamo ingrandire la vostra il vostro sapere nella lavorazione dell'uncinetto ma credo anche comunque in tutte le altre tecniche dove si mette la fantasia è sempre un punto in più e quindi lo consiglio veramente sapete che l'ultima mia creazione me la sono inventata ed è la bottiglia porta uncinetti Penelope di cui vi lascio il link e quindi quella proprio non l'ho vista da nessuna parte e lì anche in corso d'opera ho dovuto fare delle modifiche insomma sì che era una lavorazione molto dritta è molto semplice però comunque sono partita con un'idea poi sono andata a finire tutta a un'altra quindi vedete che si può comunque arrivare a un risultato molto soddisfacente un'altra cosa che volevo dirvi è che comunque anche se tanti anni che fate che praticate l'uncinetto non c'entra niente perché io anche sono tanti anni eppure ho sempre qualcosa da imparare in questi giorni ho imparato una cosa nuova che sono le diminuzioni sui punti a rilievo e quindi sono stata molto contenta e quindi mi raccomando anche quando mi ritrovo diciamo con le mie amiche creative da Rosanna comunque ci scambiamo le nostre idee ci scambiamo insomma il nostro sapere perché è molto importante passarsi le informazioni in questa tecnica perché se no uno cioè se no una non ne viene mai a capo oppure la conoscenza è bene che si tramandi un'altra cosa che è comune di tutte le creative credo che non si ha mai solo un lavoro cominciato e non si lavora mai solo su quel lavoro lì io ad esempio in questo momento ho sette lavori iniziati addirittura addirittura uno ai ferri che poi vi farò vedere perché sarà il mio primo lavoro ufficiale ai ferri perché è una sfida con me stessa e però all'uncinetto ne ho altri sette iniziati perché mi annoio a fare sempre lo stesso lavoro e quindi credo che sia una cosa comune a tutte le creative e quindi con tutta questa mia chiacchierata vi saluto continuate ad iscrivervi al mio canale perché sto preparando moltissimi lavori e continuate a seguirmi nel gruppo facebook creatività e compagnia e nella mia pagina di cui vi lascio i link e quindi vi auguro a tutte buone vacanze ciao ciao suocera ciao 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 ciao